Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di dentro e bentornati in un nuovo episodio di TheLongDog Noi l'ultima volta ragazzi avevamo parlato con questo tizio che non ci dice più niente Ok, scusate Space Oh, ok grazie Io mi ero cotto della carne, della roba varia Ho mangiato, ho bevuto quello che potevo bere e non mi sento là affatto al sicuro Quindi oggi ragazzi, sento il lupacchiotto qui però non lo vedo Entrare nel veicolo non si può? Non si può entrare nel veicolo? Ah è quello là? Ok, oddio Ok, non so perché non mi facesse entrare però Qui si può entrare Allora, questi li lascio, questi li lascio, tanti ne abbiamo un fottiglione Non funziona la macchina, non funziona la macchina E proviamo ad andare verso l'infinito ed oltre Nel senso qua, seguiamo queste luci Sempre se il nostro lupo ci lascia stare E non ci può rincontro Grazie, molto gentile E dobbiamo cercare di andare qui Nella nostra superficie della mappa Siamo direttamente qui al cantiere ferroviario In cielo c'era l'aurora boreale E vediamo In realtà ragazzi è quasi l'alba Quindi l'aurora boreale Non so se sia necessaria per fare questa missione Spero di no perché altrimenti È un bel casino qua Perché sta per finire Salve C'è nessuno qua Guardiano Signore C'è nessuno No, c'è neanche la sedia qua Ma dove cacchio era sto tizio Non si può saltare Ma però un salto ce lo potevano mettere in sto gioco Lì c'è un altro lupo E qua siamo al cantiere Quindi Cantiere ferroviario Intanto ragazzi esploriamo sto cantiere ferroviario E poi Lì c'è sempre un lupo che corre Andiamo dentro a questo veicolo Per cercare qualcosa di Di niente Non cerchiamo niente ovviamente Ci sono delle chiavi qua Via Nel cassone Check Norris No, non c'è neanche Check Norris Scusi Perca miseria Faccio una corsa Faccio una corsa Vado tranquillo Ma perché si spaventano adesso? Perché non lo so Sembrano più cattivi l'ultima volta A parte che non si vede Un gran che Per nostro cassetto Vediamo di cercare qualcosa qua Vabbè abbiamo un'aranciata Perfetto Abbiamo anche un seghetto E il fatto che il seghetto Credo che ci serva Perché non ce l'abbiamo Problema Aumenta il nostro peso Questo è il vero problema Gli antibiotici Tocca prenderli Delle bende Ci servono Che non fanno Non sono mai abbastanza le bende E qui Aspettate un attimo Che cerco anche qua Qui abbiamo un appunto cartocciato Mesi senza paga Già ci facevano sopportare Quegli svitati nella foresta Ma ora mandano pure a cercarli Basta la fine di questo giro Io ho chiuso Sia come sia Se volete unirvi a me Ci vediamo al lato opposto Del mystery lake Vicino a bungalow Inizieremo da lì Perché altrimenti Niente Perché altrimenti Boh Non lo so Perché altrimenti Qui non c'è niente Oh C'è una bevanda energetica Avete visto? All'interno del vaso Prepotente Mamma mia Se nascondono le robe questi Oh Qui cosa c'è? Io ragazzi direi che Possiamo anche provare a A dormire Perché Qui L'aurora volerà Credo che non mi interessi Però Io ci farei comunque ragazzi Una Una perlustrazione Eh Qua troviamo un sacco di cibo Il fatto è che Che non ci serve nemmeno Però vabbè Perlustra l'armadietto Quanti non mi servono Questa non mi serve Probiamo questo Che è ad aprire Con il piede Di porchi Eh Questo è utile No Questi no Vai No Ok Va bene E qua L'abbiamo cercato Sì Ok Qui invece no L'abbiamo cercato un tubo Non c'è niente E proviamo a aprire Questa porta qua E andare dall'altro lato Di questo Baracchino Un po' di esplorazione Ragazzi Allora Prima di tutto Porca c'è la miseria Mi serve Questo E questo Aia Non abbiamo molto carburante Però eh Oh Cristo I cavi elettrici Sono elettrificati Quindi che cavolo Si fa qua Ci sono elettrificati Ma che cavolo dico Accelerante L'apri scatole Vabbè ce lo tiriamo su Quanto speso abbiamo Un botto Cioè No Credo che dovremmo Per forza Aspettare la fine Dell'aurora Sì 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 Dovremmo per forza Aspettare la fine Dell'aurora boreale Qua c'è Qua c'è una lenza Vabbè Tanto non ho preso un tubo Oh No Vabbè Questo è quello Per affilare la lama Non è quello Per pulire il fucile Mi serve Quello per pulire il fucile Grazie Caracchino La miseria La pesca ragazzi Ci manca Speriamo anche Provare ad andare a pesca Un giorno di questi Cosa ci manca La gran cosa è che Adesso il carburante Aha Il carburante Dicevo Della lanterna Rimane sempre In prima visuale Quindi Si può salire da qua Incredibile Si può salire da qua Oh porcaccia La miseria Vai Ma come Erano due centimetri Qui va bene Non c'è niente Qua c'è il cassonetto Oh Non c'è niente Rotolo di giornali No Che cavolo Ci siamo venuti a fare qua Il panno E' un buon accampamento So che noi dovremmo cercare Di andare di là Ah si 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 Però nel frattempo Ragazzi Esploriamo anche qua Che Qui c'è da mangiare In realtà Beh poi Mangeremo anche Attenzione Però la porreale È finita Perché Come potete vedere L'elettricità Non c'è più Quindi proviamo A vedere Cosa c'è di qua Vediamo se c'è un altro Fucile O per riparare Il nostro Perché No 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 E mo E mo Ah si può passare sotto Ok Ok Meno male Va bene Se si può passare sotto Va bene No Pensavo ci fossimo Tipo Buggati lì Ecco se non si potesse più uscire Allora Qui abbiamo Il frigo Nel frigo troviamo Niente Bene Questa si può passare Tranquillamente Si ok Questa roba Pallet Non mi interessano Ma è tutto distrutto Mannaggia Frigorifero Freezer Carne No Qui qua c'è Prendiamo solo la roba da mangiare Ragazzi Poi Il resto non ci interessa Il microonde C'è qualcosa Tazza di caffè Va bene Ma è una cassetta Questa qua Sulla radio Ragazzi Si è una cassetta È una vecchia cassetta Vai Prova con St'armadietto Accelerante Panno No Questo si Un botto di cibo Porca c'è la miseria Come faccio a tirare sotto Sta roba Vabbè il libro Lo brucerò poi Questo Piammiferi No Ce ne abbiamo No C'è la miseria Sta finendo La nostra lanterna Però Io la lascerei Anche finire Tranquillamente Abbiamo la ricarica No Kit da cucita Non ce l'abbiamo Guarda Dammi Sto coso Grazie Cassonetto No Andiamo a ricaricare La nostra lanterna Ragazzi Perché altrimenti Dove cavolo è Non la vedo Eccola qua No Scusa Come faccio Ah no Perché vedo che c'ho Il riflesso davanti Questo è quello Per ricaricarla Dove è la nostra Lanterna 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 Eccola qua Sono cecato Azioni Rifornisci Vai Bomba Perfetto Quindi Dec Scensione La Ok E continuiamo a cercare qua Qua c'è anche da dormire Dopo ragazzi Andiamo a dormire Qui non c'è più niente Qua abbiamo già cercato 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 Qua no È vuoto Qua ricerca C'è una barretta Di cioccolato O di musli O quello che è Qui dentro Non c'è niente E vabbè Usciamo da qua E proviamo ad andare A vedere dall'altro lato Non è che magari Qua in giro Nascosti Sotto gli anfratti Di questo Schifo No Va bene E Qui Qui si esce L'ultima volta Noi avevamo visto Che qui c'era un cadavere congelato Lui ci inciampava contro Adesso no vero E infatti Vero non aveva senso Perché se lo vedi Che cacchio ci inciampi su Allora Spero lui Alla nota E ora di alzare la testa Non possiamo starci Le con le mani in mano Mentre multinazionali Continuano a violare La nostra amata Great Bear Questo qua era uno Dei forestalker Se vi interessa Salvare quest'isola Venite alla vecchia Cappanna Al limitare Del parco provinciale Di Mystery Lake Il campo di Cellulari E satellitari È intermittente Perciò portate I dati a mano Ricordate Ci stanno osservando Perciò pensateci bene Prima di dare fiducia A qualcuno D'accordo Signor Ciccio Tizio Quanti da lavoro Ma dove Cavolo è La raglia No aspettate un attimo Devo prenderle su Queste cose qua però Oddio Ok no Questo E questo E il libro Il libro Non mi interessa Lascialo giù Che ti frega Combustibile Per lanterne Un panno Un'altra lanterna Antivento Ah è piena Ah è piena però Vabbè Lasciamo Laggiù Avviamo la nostra Ok Io non ho trovato Il kit Di pulizia Per i fucili Il bengala Glielo lascio Volentieri Tanto Servono un tubo Ragazzi Qui c'è Il cesso L'armadietto Voglio trovare Il kit Di pulizia Per i fucili Ragazzi Mi farebbe Veramente Molto Molto Comodo Perché il nostro È praticamente Disintegrato Il fucile Che abbiamo Non è Cioè Sprechiamo Troppi colpi Nel Ah Guantità Guida Buggati Ok Sprechiamo Troppi colpi Nel sparare Ce ne spariamo Uno Ne consumiamo Due Come ho Già Detto Quindi Non vorrei Proprio stare Qui Ad usarlo Lo userei Proprio solo In situazioni Di emergenza Emergenza Accidenti Mannaggia Perché non Riusco A trovare Perché non Riusciamo a trovare Sto kit Magari c'era Qua in giro Però Va bene Non importa E c'è Ancora un po' Di roba Da prendere Beh cibo No Perché l'abbiamo Razziato Però diciamo Cose varie Guardate Qua Cracker Martello pesante Bene E che cacchio serve Il martello pesante Adesso Quanto pesa Due chili Se è pesante È pesante Lascialo Perché non Non riesco a portarlo Oddio Un casino di carbone La forgia Qui c'è una forgia Ragazzi Allora aspettate un attimo Andiamo a vedere Nella forgia Cosa possiamo fare Credo niente Perché non abbiamo Le ricette Per la forgia A meno che non ce ne siano Già di Di default Proviamo a vedere Allora Intanto spegniamo Sta lanterna Andiamo a vedere Se riusciamo Ad equipaggiare La nostra forgia Lui ci dà già Degli attrezzi Per farla funzionare Comunque Quindi posso Foggiare Posso forgiare Non posso forgiare Cioè se io L'accendo No Crapping Io non so Se posso Fabbricazione Forgia No vedete Non ho niente C'è piani di Fabbricazione Per la forgia Io non ho niente Quindi non starei lì Tanto a Cincischiarci su E Andiamo a Cibarci Riprendiamo La nostra Avventura Vai Mangia tutto Mangia tutto Siamo pesantissimi Tipo Oh Ok Non possiamo Correre ovviamente Però Guardate qua Quanta roba Abbiamo trovato Porcaccia La miseria Mi sa che Devo abbandonare Assolutamente Qualcosa Ragazzi Sa che Devo abbandonare Qualcosa Il prima Possibile Ah Questo segaccio Qua non ce l'avevamo Però ho preso Un chilo Porcaccio Due Qua abbiamo Due di queste cose Che possiamo Affilare Le nostre accette Ma si può tipo No Questa no Però questa si E quando è che Troveremo un coltellaccio Degno di nostra Si può riparare Azioni Ripara Sì Perché abbiamo due Ecco ripara questa Per favore Cazzo Però Hai fallito la riparazione Mingas Sei figo Allora Momento ragazzi Proviamo a ripararla ancora Azioni Ripara Ma mi sta bene Per il culo Ah ma gli estremi Estremi Rimedi Allora Ma vedrai Che quella Priscatto Le lo ripari Perché voglio Buttare L'altro Questo era Il succo Ragazzi Ne ho sbagliati Due su due Allora Caro Il mio Coso Dove Cavolo Dai che posso Frantumare Del ferro Io qua Ok Frantuma Molto bene Ho preso un po' Di roba Ok Adesso Ripara Oh Vedete che l'ha riparata Adesso Schifo è Vioni Ripara Anche questa Sì Ripara Ripara Fallito Perfetto Riparato No Ripara Ripara Poi una ragazzi L'abbandoniamo qua Non so se ci torneremo Però in caso Meglio essere Previdenti Lascia Perfetto Qua abbiamo adesso Il segaccio qui Possiamo riparare anche questo Sì No Non possiamo Perché Ah perché serve Attrezzi di qualità Vabbè sti cazzi Ciao Allora Qui abbiamo la nostra Lanterna che è piena E il kerosene Io lo butto giù Quindi Azioni Rifornisci E butto giù Il kerosene Ragazzi Ci devo fare Butto giù Il kerosene Lascia sto kerosene E Cos'altro posso lasciare Queste Le vorrei finire In realtà Poi ci penserò Un sacco di carne Che non Non vale proprio la pena Ok E siamo arrivati a 43 kg Ancora un po' 42 41 41 E Via Ok Adesso possiamo Di nuovo correre Perfetto Abbiamo lasciato Di un botto di roba Ma vabbè Allora Ragazzi Adesso Se riesco A ripigliarmi A ritrovare la strada Per andarmene da qui Che sarebbe Cosa buona e giusta Sono serio Devo Per lo slalom Queste cose Quindi Andiamocene No no Por cacciolo Due Va bene Usciamo da sta porta Non c'è problema Ok Come potete vedere C'è una luce Del panico Quindi Lupi no Grazie Lupi no Lupi no Bene Proviamo ad andare Verso Era di qua Si dovrebbe essere Di qua Dobbiamo andare Verso La casupola Là in fondo Credo che questo Ragazzi Fosse solo Un intermezzo Per riposarsi A parte che Non ci siamo riposati Vabbè Ci riposeremo No Oltre Siamo arrivati La Sempre Ci arriviamo Ok Fuggi Fuggi Stupido Cosa Abbiamo un botto Sti razzetti Ragazzi Almeno Li spaventiamo Ce li togliamo Dalle palle La nostra Temperatura Sta scendendo Abbastanza Ma come Ci siamo messi Con i vestiti 97% No Sono buoni Ancora Ma scusate Il lupo Cosa Mi ha rotto Lora Non ha rotto Niente Il lupo Che ci ha attaccato Prima Quindi va bene Come abbiamo Fatto A sanguinare Se non ci ha rotto I vestiti Punto di domanda Comunque Vabbè Non ci siamo perdere Ah qui c'è il paradiso Dei cervi Ragazzi Come potete vedere No Se non posso correre Ragazzi Ci siamo perdere Allora Devo attraversare Questo laghetto Attraversiamo Questo laghetto Ragazzi Signor cervo Io vengo da lei Adesso Visto che ci sono Gli affari Vada Vada Spero che regga Sto ghiaccio Reggerà Sì che regge Regge Eh lì c'è anche Quel cappannetto Lì Vedete Andiamo a darci Un'occhiata Ragazzi Proviamo a darci Un'occhiata Qua c'è un chilo Di carne Da recuperare In caso Congelata Dunque qua ragazzi C'è il paradiso Del cervo E là c'è Il paradiso Ma del coniglio Rifugio del cacciatore Ah ecco perché C'è tutta Questa selvaggina Qua Mamma mia Che rifugio è Qua c'era la folla Per venire Trappola Ah una trappola Per catturare Conigli Andiamo a piazzarla Trappola per i conigli Andiamo a piazzarla Ah abbiamo visto C'è il paradiso Del coniglio Quindi No ma devo Riattraversare No no ragazzi Devo riattraversare Beh oddio La pelliccia di coniglio Mi servirebbe però Perché Stiamo andando giusti Sì perché Dobbiamo per forza Andare qua Quindi ci passiamo Di là dai Proviamoci ragazzi Così Se torniamo indietro Vediamo se catturiamo Un coniglio E Ciao coniglio Banni Banni E Dove Sarebbero Scusate Che non Mi ripiglio Eccolo qua Allora Caro il mio coniglietto Coniglietto Io le piazzo La trappola qui No no Non scappi Non scappi Tranquillo Non è successo niente Io la piazzo Qui Là Ecco qua Coniglietto Allora Caro il mio coniglietto Lì c'è la tua trappolotta Se ci vuoi andare contro E io dico così In amicizia E poi Fai un po' quello che ti pare Qui c'è del lichene Però Non ci serve Abbiamo visto che le missioni Sono cambiate Quindi Dobbiamo trovarla Quella trappola lì Adesso Vabbè Ci penseremo Potrebbe tipo legare qualcosa Tipo qualcosa di rosso Che C'è sempre Chiasso In mezzo Tutto questo bianco Apriamo il cancello Richiudiamo Che ce l'ho Le nostre spalle Perché non mi fido Ok E saliamo Ok Credo che dobbiamo scalare Completamente questa montagna Ad arrivare qui Ragazzi Facciamo il nostro viaggetto Assieme Poi magari Al ritorno Vi taglio la parte Dove torno indietro Perché se no Sarebbe veramente Una barbonata Una barba Quindi Perché a tornare indietro Ragazzi Sarò tipo Sovraccarico Ci metterò Quattro giorni A tornare indietro Ok E ci metterò Circa quattro giorni Di gioco Qui Per fare la strada A ritroso Perché dovrò Camminare Sempre E Forse in maniera Anche abbastanza Molto lenta Perché Non recupererò Delle cose Compreso la lancia Che non credo Che pesi due Due grammi Dove stiamo andando Stiamo andando In paradiso Guardi qua Ma non potevate Metterla vicino Al rifugio Del cacciatore La lancia Leggendaria Ammazzavorsi Dovevate metterla In cima Una cavolo Di montagna Ovviamente La mia solita Fortuna Quindi Qui abbiamo Un Stupido Faretto Un altro Faretto Un altro Faretto Ah questo qua È la strada Con Con L'illuminazione pubblica Vedete Era morto Percorsa Questa cosa Vabbè Comunque io sento Lulare dappertutto Qui non è che mi piaccia Tanto La Situation Vedete qua Mamma mia Che ansia Allora Eh sì 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 Certo Come no Madonna Vada 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 Boh si è spaventato Ragazzi eh L'abbiamo fatto cacare Sotto quel lupo Ok Riusciamo per favore Ad andare A sta cavolo Di capanna Che poi non è una capanna Dovrebbe essere una casa Mystery lake Lounge 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 Eccola là Tagliamo Sennò Stiamo qua Quattro giorni Ok Allora La casa Dovrebbe essere Quella là Dovrebbe essere La casa Prepotente Della morte Finale Ragazzi C'è lupo Che corre ancora Si è ripreso Eh si è ripreso Sì Corri Corri No 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 Lupo io non mi giro Si 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 fidi Nuova posizione scoperta Capanno da caccia Sì effettivamente Non dovrebbe essere Un brutto posto Tempo fa Questa cosa Eh corri 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 Dove siamo arrivati Ragazzi Dov'è il lupo Ah il lupo è ancora lì Che ci fa Da scorta E con Ci fa da scorta Intendo dire Che ci vuole Mordere le chiappe Allora probabilmente Quella casa lì Sarà sicuramente Chiusa È una casa chiusa Quindi Crea il veicolo E prendi la chiave Della casa Possibile che In macchina Non mettono Le chiavi Della casa Eh Porca miseria Troppo No mettono Dei giornali In macchina La chiave Della casa Mi serve Perché Perché non l'avete Lasciata in macchina La chiave Della casa Per il baule E fu così Che Trovo le chiavi Nel baule Come ha fatto Eh ricerca No non c'è niente Dice un giornale Nel vano Porto oggetti Non c'è un tubo C'è nel visore Non c'è un tubo Qui cosa c'era Giornale Basta Niente Dei gran giornali Ma niente Vabbè Era il mio lupo Lei lo spero Che mi voleva Sbranare le chiappe Allora Sanguinamento Adesso andiamo a curarlo Ovviamente Dov'è Vai Arriviamo al sanguinamento Ok E' nostro questo sangue Probabilmente si E allora La porta è aperta A questo punto Oh mio dio Tutto sto casino E poi la porta è aperta Però L'esterno della casa Ce la facevo in questo episodio Ragazzi Quindi Ebbè Che c'è qua Alve Buongiorno Ma come fa male Cos'è che fa male Ah la caviglia è slogata Porca miseria Mi serve la tisana Non ce l'ho la tisana adesso Dopo la curiamo Questa roba No Oh si che ce l'ho la tisana Un momento Dec Qua No non ce l'ho Vabbè poi Ce la facciamo ragazzi Che servono le bacche Se c'è la tisana Serve quella rossa Non questa Va bene Ah ma qui c'è un'altra porta Sul retro Si può entrare? Si La porta sul retro Si può entrare In realtà non so se quella davanti Fosse chiusa Ma per logica Penso che quella frontale Sia chiusa Cerchiamo quella lancia Va bene Allora ragazzi Direi che la lancia La possiamo anche cercare Nel prossimo episodio Io qui cerco Di farmi Da mangiare Più che altro Uuuuh Questa cucina qua è una super cucina Sei piani di cottura Quindi Andiamo qua E Mettiamoci La legna E il bastone Adesso ragazzi Accendiamo il fuoco Sicuramente non voglio perdere tanto tempo Vai con la cera Ante grazie Ok Aggiungi combustibile E aggiungiamo La legna di cedro No anzi La legna di recupero Poi aggiungiamo La legna di cedro E abbiamo un'ora Perfetto Per il carbone quanto serve? Vabbè 26 E quindi Ci cuociamo Com'è che era? Seleziona Mi serve la Tisana Quella per curarmi No Perfetto Quindi facciamo così No perché se no ragazzi qua Ce li accumuliamo Un casino di ste robe Quindi non le usiamo mai Quindi L'abbiamo fatto adesso No? Quindi fai così Cuoci Ok questa Cuoci Così ci dà anche la sete Quanto serve per 10 minuti per terminare? Passa finché non è pronto Bevi E dovremo curare la nostra Il nostro dolore La nostra caviglia Esatto Perfetto Riprendiamo la pentola Beh vabbè adesso non è che Riprendo la pentola Diciamo che siccome che non credo Che qua ci siano Dei letti Io mi metto il sacco a pelo qua In terra Sì ma mettilo però No l'avevo visto verde Ok Mettilo qua Tranquillo E niente ragazzi Adesso io vado a dormire E ci vediamo Al prossimo episodio Qui con The long talk Grazie a tutti per essere stati con me Ragazzi ci vediamo Alla prossima Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga